Cesca Piccinini, come procede il lavoro in vista del mondiale? Direi bene, ogni giorno siamo qua, cresciamo sempre giorno dopo giorno, sono sempre da cercare di particolari, di cercare di migliorare sempre più. Senti, è una nazionale che si è un po' plasmata giorno dopo giorno, però sono vecchie, hai trovato delle ragazze che hai giurato sempre? Il gruppo cambia, è cambiato anche quest'estate, ci sono stati dei problemi, degli infortuni, quindi ci sono stati in corsa degli inserimenti, però il gruppo buono sta andando nella giusta direzione. Senti, qualche tua collega ha parlato di lavori in corso, adesso a che punto sono questi lavori? Vi chiudiamo, siamo a buon punto della preparazione? Ancora lavoro in corso sicuramente, quasi in dirittura d'arrivo, ma è normale, comunque anche durante il mondiale ci saranno sempre cose da migliorare e cercare di non abbassare mai la guardia. Senti, partire bene subito con la spinta del pubblico di Roma, penso che è la giusta medicina, no? Penso che sicuramente fare un mondiale in Italia non capita tutti i giorni e penso che a differenza delle altre avremo un giocatore in più che non è indifferente, il pubblico, quindi spero che ci sia tanta gente e non vediamo l'ora di iniziare.